Io a volte non vi capisco. Davvero non vi capisco. Se un uomo vi dice di no, che non vuole nulla in più, che non vuole una relazione, ma perché vi ostinate? Io so che la speranza è l'ultima a morire. So che nella nostra cultura c'è anche l'idea di non rendersi mai in amore. Ma se uno ti dice così è perché non gli piace più di tanto. Si vuole magari fare un giletto in giostra ma nulla di più. Va bene che magari sei attratta ed è difficile accettare un rifiuto. Che magari hai bisogno di validazioni, conferme del tuo valore. Ma lui del tuo valore, se ti dice così, non gliene frega nulla. Non gli interessa scoprirlo e scoprirti. Sta mettendo le mani avanti ancora prima di conoscerti e non funziona come magari nel lavoro che la perseveranza porta dei risultati. No! Se uno non ti piace può provarci anche per dieci anni ma non caverà mai un ragno dal buco. La stessa cosa vale per lui. Se poi magari cominci anche ad autoconvincerti che i suoi segnali potrebbero essere confusi. Che lui magari ha paura e ha espresso un concetto quando magari voleva dirne un altro. Siamo proprio alla frutta. Quando un uomo ti dice che non vuole nulla è perché davvero non vuole nulla. Mettitela via!